Oggi andiamo a farci un mangeretto nella piazza dei Dori E poi alle mezz'ora, se non è pura, anche la legge Questo posto è sicuramente particolare Sicuramente interessante da visitare Sicuramente quello che ci fanno fa abbastanza schifo La Spagna è diventata quest'anno il mio paese Per un periodo rilevante della mia vita E il fatto che il mio paese nel terzo millennio Ancora consideri uno spettacolo Torturare a morte un animale per divertire la gente Purtroppo è triste Però la colpa non è di un paese o di qualcuno in particolare La colpa è dei turisti che vengono a vedere Dei turisti e degli spagnoli ovviamente Che vengono a vedere questo genere di stronzate Questi sono i posti che ci piace visitare No, la lapina di birra per nasconderci la gaza Io questa la prendo Cacchio, molto Bob Marley style Cacchio, molto Bob Marley style Cacchio, molto Bob Marley style Cacchio, molto Bob Marley style